salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi alleneremo spalle e dorsali ovviamente lat machine già caricati 46 kg 4 serie per 5 ripetizioni più la presa inversa come sempre ovviamente ci andiamo a pesare prima di prima di fare l'esercizio 59.35 kg grasso corporeo 13.0 rispetto alla volta scorsa il peso abbiamo perso 150 grammi la 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 Secondo esercizio Latt Machine triangolo Quattro sedi Quattro sedi Quattro sedi Non Quattro sedi Quattro sedi Ragazzi Per sbaglio ho fatto 46 kg Però va bene Va bene così 46 kg Ce la dobbiamo fatta come vediamo Per questo esercizio Abbiamo un rematore basso Cioè rematore al capo basso Singolo ovviamente Per tre serie Per Otto Difficizioni Quattro video Quattro esercizio Uno è basso Treine Quattro esercizio Ah 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 Quattro, quattro, quattro. Quattro, quattro, quattro. Cresceri che ci vedo. adesso passiamo alle spalle viaggiare carico 38 kg 3 serie per 5 ovviamente abbiamo alzate frontali tavo basso metteremo non adesso faremo i laterali faremo tre serie per 10 ripetizioni con otto che è un basso caricato ultimo esercizio del turno posteriori cavo basso tre serie allenamento terminato adesso ci vediamo al prossimo episodio ciao 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 ciao